Le pareti esterne della chiesa di San Nicola di Bari a Monticchio hanno delle lesioni e così è stata prorogata la chiusura di un tratto della strada provinciale che attraversa l'abitato di Monticchio, la Strettoia. Una richiesta arrivata dalla ditta che sta eseguendo i lavori, che ha manifestato l'esigenza di un'ulteriore chiusura per finire la demolizione e lo smontaggio del tunnel a protezione della strada fatta dopo il sisma. Le lesioni alla chiesa sono state scoperte solo dopo che la ditta ha terminato lo smontaggio dei tubi innocenti. Le tempistiche non sono ben definite, nel senso che l'impresa ci ha assicurato che avrebbe svolto tutte quante le lavorazioni necessarie e quindi poi lasciato libera la sede stradale da qualsiasi ingombro proprio per poter consentire la riapertura al traffico entro un mese, un mese e mezzo. Fermo restando che i lavori all'esterno ancora non sono partiti in quanto la ditta che si è occupata dell'aggregato di fronte e che appunto ha smontato il ponteggio ancora non libera l'area di cantiere sulla quale poi dovrà insistere appunto il cantiere di questa nuova ditta per la messa in sicurezza della parete della chiesa. L'ingegnere Michele Suliani ha già trasmesso alla soprintendenza il progetto per la messa in sicurezza, dunque appena l'area di cantiere sarà liberata si potranno iniziare i lavori installando un semaforo. Ma a livello generale la città dell'Aquila è interessata da tanti lavori che hanno limitato la viabilità, basti pensare a Via 20 Settembre e Viale della Croce Rossa. I lavori su Via 20 Settembre stanno continuando purtroppo non velocemente come l'amministrazione vorrebbe, questo è da dirlo. Le condizioni meteo ovviamente non aiutano perché alcune lavorazioni con il freddo rigido di questi giorni non possono essere sicuramente eseguite. Viale della Croce Rossa anche quella sta proseguendo a piccoli step, però diciamo che la notte comunque crea meno disagio. È ovvio che siamo sotto il periodo natalizio e quindi c'è un'intensificazione del traffico che è prevedibile come lo era prevedibile in tutti quanti gli anni. Cercheremo anche di posizionare delle pattuglie della Polizia Municipale nei momenti in cui sarà necessario andare a divincolare qualche situazione che può crearsi soprattutto nelle ore subito prima dell'orario di cena anche per quanto riguarda la viabilità su Viale Corrado IV.